I cavalli dell'Ambrosiano 2023 che vedono partire bene quelli di fuori con Canto Corale che prova a sfondare nei confronti di Don Chico poi Bucara insieme a Perù Tempesti si mette quinto in corda fiancato da Pangiari più dietro invece sono Sean insieme a Mordimi Canto Corale che ottiene il comando bisogna solo capire che tipo di andatura vorrà scandire in testa in seconda posizione Don Chico contento di rimanere lì avendo nella sua scia due della Darius Racing con di dentro Perù con i bracciali a suo fianco Bucara poi ancora Dormegliano Tempesti nei confronti a largo di Pangiari in giubba gialla con le maniche nere seguito quest'ultimo da Mordimi con il cap a strisce all'interno Sean in giubba viola con le maniche verdi in quest'ordine i cavalli con Don Chico che viaggia a fianco di Canto Corale non pressandolo ma non consentendolo di fare perfettamente i suoi comodi Pirù e Bucara che seguono su Tempesti che nel frattempo ha mostrato dalla corda costringendo la corsia esterna a Pangiari poi ancora Sean e a chiudere il gruppo Mordimi in quest'ordine gli otto che si guardano ancora in faccia per una prima parte di corsa molto tranquilla con Canto Corale che è sempre in vantaggio su Don Chico poi ancora Bucara e Piruzze Tempesti e Pangiari a largo di tutti gli 800 metri della verità quelli che devono affrontare i cavalli con Canto Corale che all'intersezione delle piste comincia a muovere le mani su Don Chico e Bucara di fuori Pangiari poi ancora Sean Tempesti e Mordimi Canto Corale in fuga a traguardo lontano provando a rubare il tempo agli avversari con Tempesti che si butta a largo di tutti Sean che prova a recuperare Pangiari che rimane in quota così come lo stesso Bucara mancano 400 metri scarsi con Canto Corale che è in fuga dal ritorno di Tempesti che adesso si butta a largo poi Sean insieme a Pangiari Canto Corale davanti su Tempesti che lo prende sotto tiro in mezzo ai cavalli c'è Sean poi ancora Pangiari e Mordimi che sta finendo bene Canto Corale davanti Sean che si insinua su Tempesti che non cambia marcia nell'ultimo tratto e Sean che passa e Sean che vince a sorpresa l'Ambrosiano davanti a Don Chico forse secondo sullo stesso Tempesti e Mordimi che finisce bene a largo Sean dopo il brutto oriento si ripresenta la grande Luca Magnezzi per il signor Curfe Cogna ai colori il signor Carlo Di Chere che è al training per il secondo posto strettissima tra Tempesti che forse ancora pizzica secondo su Don Chico e Mordimi Grazie